Ciao a tutti, alle mie spalle potete vedere la chiesa di Sant'Agostino. Mi trovo nel cuore della città, il quadrilatero, il cosiddetto quadrilatero, e la chiesa di Sant'Agostino rappresenta uno dei punti di riferimento di questa zona. Una chiesa che viene affidata ai padri agostiniani alla metà del 1500, che cento anni dopo daranno poi l'incarico della realizzazione della struttura attuale, su un preesistente sito però di una chiesa risalente addirittura all'undicesimo secolo. La chiesa oggi si presenta con una facciata in stile, diciamo, sempre manierista, che però in realtà venne realizzata all'inizio del 1900 da Carlo Ceppi in stile. La curiosità, oltre a conservare al suo interno un affresco medievale, è che, come vi raccontavo, sotto il suo campanile venivano seppelliti i boia. Ma, durante qualche lavoro di restauro qualche anno fa, è stato ritrovato un pozzo all'interno della chiesa con degli altri resti che sono stati riconosciuti come quelli dei soldati francesi morti durante l'assedio del 1706. Quindi, chiaramente, i caduti in quell'occasione furono veramente tanti e furono, quindi, evidentemente, anche distribuiti nelle varie chiese. E alcuni, quindi, anche qui in Sant'Agostino. Purtroppo non è sempre facile entrare perché è molto spesso chiusa, ma quando poi è possibile, veramente, al suo interno conserva delle bellissime opere.